Qual è il decreto legge che noi non abbiamo visto? Lo valuteremo nel dettaglio quando sarà prodotto. Ad occhio mi pare che si vada ancora una volta verso l'eccezione piuttosto che la regola e quindi l'ampliamento degli spazi di commissariamento in un paese in cui tutto viene commissariato. Non c'è certezza sul codice degli appalti e quindi non c'è certezza rispetto alla tutela del lavoro negli appalti e della tutela dalle eventuali infiltrazioni. Non c'è certezza sul fondo di finanziamento 2018 che è in ritardo e quello 2019 sui cantieri. Non c'è soprattutto certezza sul cantiere Italia, cioè qual è il modello di governance, chi governa, chi comanda, qual è il rapporto tra le diverse strutture di missione messe in campo del governo che proliferano e le regioni che ancora oggi, dati solo 24 ore, sono coloro che fanno le migliori performance di investimento sul proprio territorio. Quindi molta cortesia e poco arrosto.